La conoscete il gioco dell'anello? Qual è? E' un carro armato! Cazzo! E' un carro armato! Insieme, forti! Ah beh sì, potevi dirlo prima che montassi il trampolino. Per l'ultima volta amico, non abbiamo ordinato un trampolino gigante. Bello scherzo, potevi anche dirmelo prima che lo montassi. Sembro stupido e lo sono. Ciao ragazzi, io sono Red e siamo ovviamente qui con Topolino. Ciao! Siamo all'Apocast Paintball, ovviamente park, per terminare la vita dello scudo tattico. L'abbiamo portato all'estremo in questo bellissimo video, vi apparirà la schedina qua sopra nel caso lo vogliate andare a vedere, ma non siamo riusciti a romperlo, solo a incrinarlo. Quindi abbiamo deciso di aumentare e alzare l'asticella. Quindi cosa andremo a fare? Si va in scena. Lo andiamo a schiacciare con un carro armato. Un po' più forte. Lo andiamo a schiacciare con un carro armato. Un carro, ragazzi! Un carro armato! Quindi bando alle cianze, andiamo a schiazzarlo, cambio di inquadratura. Ciao, rega! Ma è ancora in tiro! Il mio cosa che è è questo qua, però posso ancora usare. Cazzo è perfetto! Dobbiamo riuscire a romperlo, zio. Lo scudo ha retto, non sappiamo bene come, deve essere fatto di quel materiale speciale di cui sono fatti i sogni, quindi proveremo a investirlo in retro e se non si spacca neanche così, ragazzi, lo bruciamo nel monte Fato. No! Ma che fa? Che potenza terrificante! Ha il triplo schiacciamento, glielo appoggio come deve stare. Ragazzi, ci stiamo provando in tutti i modi, quindi proviamo a metterlo già direttamente sotto la ruota e speriamo che non mi parta un pezzo in bocca. Cioè, ci passi proprio sopra, ma non si spacca. Bravissimi, continuate così, ragazzi, forza! Non me l'accettavo! Stai dentro! Lo compro! Ragazzi, questo scudo è la cosa più indistruttibile dell'universo! Tu puoi vincere! Ma che cosa succede? Ma che cosa succede? Beh, ha retto perfettamente, devo dire. In questo è ancora un pezzo unico. Ancora intero. Si può ancora usare. Certo che ha retto quanti passaggi? Quattro passaggi. Uno, due, al quarto, barando. Quindi alla domanda se uno scudo può resistere a un carro armato, in realtà... Sì, sì, ma non l'operatore che lo usa. Mito confermato. Compratelo! Aziona! Me lo fai vedere un attimo? No! Ovviamente siamo stati ospitati da... Apocalypse Rainbow Park. Apocalypse Rainbow Park. E ringrazio nuovamente entrambi i signori che ci permettono di utilizzare i loro mezzi per i nostri video del Kaiser. Volete dire qualcosa? Volete ricordargli qualcosa? Una cosa importantissima. Ciao! Ragazzi, vi ricordo di passare in descrizione perché ci sono tutti i link di Instagram mio, Instagram del negozio, Instagram loro. Bene, qui è tutto. Io ringrazio nuovamente Apocast. Noi ci vediamo. E stay angry! Potete fare... Ciao!